or su stammi vicino erato e cantami come giasone portò il vello a iolco da quelle terre lontane grazie all'amore di medea tu pure hai avuto in sorte il dominio di cipride e incanti nell'ansia le giovani vergini tu pure hai un nome che dentro di sé contiene l'amore gli eroi stavano nascosti in mezzo ai folti canneti ma li videro era ed atena e in disparte da zeus stesso e dagli altri immortali andarono in una stanza e tennero ivi consiglio era per prima tentò in questo modo il cuore di atena dimmi tu prima figlia di zeus qual è il tuo pensiero che fare mediti forse un inganno per prendere il vello d'oro ad eeta e riportarlo in terra di grecia giacché persuaderlo con dolci parole non possono è terribilmente superbo eppure nulla si deve lasciare intentato così disse e subito atena le diede questa risposta era anch'io tra me e me volgevo questi pensieri quando mi ha interrogata ma ancora purtroppo non possiedo l'inganno che aiuti il loro coraggio e su tanti disegni ho già dubitato disse e fissarono gli occhi a terra ai loro piedi assorte nei pensieri poi era per prima disse il suo proposito andiamo dunque da cipride chiediamole di parlare al suo figlio e di persuaderlo a colpire con le sue frecce la figlia di eeta la maga e ammagliarla d'amore per giasone credo che con le astuzie di lei giasone riporterà il vello in terra di grecia così parlò e l'astuto progetto piacque ad atena e allora di nuovo rispose ad era con dolci parole era mio padre mi ha generata ignara dei dardi d'amore non conosco il bisogno l'incanto del desiderio se ti piace questo disegno ti verrò dietro ma sarai tu a parlare quando andremo da lei disse e alzatesi andarono alla grande casa di cipride costruita per lei dallo zoppo efesto suo sposo quando un tempo la ricevette in moglie da zeus entrarono nel cortile e si fermarono sotto il portico nella stanza dove la dea preparava il letto di efesto questi era andato di buon mattino nell'officina nel vasto recesso segreto dell'isola errante dove alla fiamma del fuoco forgiava le opere splendide e lei sola in casa sedeva su di un trono adorno davanti alla porta lasciando cadere da ambo le parti i capelli sopra le candide spalle li ravvivava col pettine d'oro e ne faceva lunghissime trecce vedendole smise e le chiamò dentro e si levò dal suo trono le fece sedere e sedette di nuovo anche lei raccogliendo con le mani le chiome non curate dal pettine poi sorridendo rivolse loro queste sottili parole mia care quale pensiero quale necessità vi guida da me dopo tanto tempo perché venite non certo spesso in passato siete venute da me voi due che siete le dee più grandi ed in risposta era le disse queste parole tu ci schernisci ma il nostro cuore è sconvolto d'affanno già sul fiume fasi il figlio di esone ferma la nave e con lui gli eroi venuti alla conquista del vello per tutti loro adesso che incombe vicina l'impresa grande il nostro timore ma più di tutti per giasone quest'uomo anche se dovesse navigare laggiù nel regno dei morti per sciogliere il sione delle catene di bronzo io lo proteggerò sempre con ogni mia forza perché non rida di me sfuggendo alla morte funesta pelia che con arroganza mi tolse l'onore dei sacrifici e inoltre già prima mi era carissimo giasone dal giorno che presso le acque in piena del fiume anauro l'ho incontrato quando volevo provare la giustizia degli uomini lui tornava dalla sua caccia le cime dei monti erano piene di neve e da esse i torrenti rotolavano giù rimbombando io mi ero trasformata in una povera vecchia e il figlio di esone ebbe pietà di me mi prese sulle sue spalle e mi portò al di là dell'acqua impetuosa perciò io non cesserò di stimarlo del resto neppure il re pelia potrà scontare la pena se tu non gli doni il ritorno così disse e afrodite fu presa da muto stupore turbata a vedersi davanti era che la supplicava e finalmente rispose con dolci parole lea veneranda che nulla al mondo sia così più vile di cipride se non mi prendo cura del tuo desiderio con parole o atti che possano compiere le mie deboli mani e da te non vorrò ricompensa in cambio di questo così disse ed era le diede questa accorta risposta non di forza o di braccia abbiamo bisogno non per questo siamo venute resta tranquilla e chiedi soltanto a tuo figlio che ammali la giovane figlia di età di desiderio per ciasone se benigna verso di lui gli farà dono dei suoi consigli credo che facilmente conquisterà il vello d'oro e tornerà a iolco essa ha grandissima astuzia così parlò e ad entrambe afrodite rispose era ed atena mio figlio ubbidirebbe piuttosto a voi non a me giacché per quanto sfrontato un qualche ritegno per voi lo avrà pure negli occhi ma di me non si cura non ha riguardo e mi provoca sempre ho pensato addirittura non potendone più della sua cattiveria di fargli a pezzi in sua presenza l'arco e le frecce tali minacce mi ha scagliato nella sua collera se non tenevo ferme le mani quando era ancora capace di dominare la rabbia poi avrei avuto a pentirmene così disse e le due d'è sorrisero guardandosi l'una con l'altra e afrodite afflitta così riprese a parlare i miei dolori fanno ridere gli altri e io non devo più raccontarli a tutti basta che sia io a saperli ora poiché questa cosa a voi due sta tanto a cuore proverò a persuaderlo e non si tirerà indietro così disse ed era le prese la mano gentile e le sorrise suavemente e a sua volta le disse questo che dice afrodite compilo subito e non arrabbiarti non vale la pena di litigare con tuo figlio la smetterà prima o poi così disse e lasciò il suo seggio accompagnata da atena e tornarono indietro mentre afrodite andava per le valli d'olimpo in cerca del figlio lo trovò in disparte nel giardino fiorito di zeus non solo ma con ganimede quello che un tempo zeus collocò in cielo a convivere con gli immortali preso dalla sua bellezza i ragazzi giocavano con i dadi d'oro come buoni compagni ma l'insaziabile eros stringeva la mano sinistra piena dei dadi sul petto in piedi e un dolce rossore gli coloriva le guance ganimede gli stava accanto inginocchiato in silenzio a testa bassa aveva ancora due dadi e li lanciò l'uno di seguito all'altro ma in vano furibondo con eros che sghignazzava li perse anche quei due come aveva perso gli altri e se ne andò sconsolato a mani vuote senza vedersi dell'arrivo di cipride che si fermò davanti al suo figlio gli accarezzò il viso e gli parlò in questo modo di che cosa sorridi sciagurato canaglia hai ingannato quel povero sciocco e l'hai sconfitto coi tuoi imbrogli or su si buono e fammi il favore che ti domando ti darò in dono il balocco stupendo di zeus quello che fece per lui la nutrice adrastea nell'antro dell'ida quando era ancora bambino una palla veloce niente potresti avere più bello dalle mani di efesto è fatta di cerchi dorati e attorno a ogni cerchia dall'una parte e dall'altra girano intorno gli anelli ma le giunture sono nascoste sopra di loro corre un'azzurra voluta se tu l'avrai nelle mani e la lanci lascia per aria un solco splendente come una stella io te la dono ma tu dovrai colpire con le tue frecce e incantare la figlia dieta d'amore per ciasone e senza indugio oppure più scarso sarà il mio compenso così disse ed egli si rallegrò ad udire questo discorso gettò via i suoi giochi e aggreppato con ambo le mani alle vesti di lei di qua e di là la teneva con insistenza e la pregava di dargliela subito però afrodite lo trasse a sé con dolci parole e lo baciò sulle guance e sorridendo rispose lo giuro sul tuo caro capo e sul mio che ti darò il dono non ti voglio ingannare purché tu scagli i tuoi dardi sulla figlia dieta così disse e lui raccolse gli astragali e dopo averli contati li depose nello splendido seno della dea sua madre e subito si mise addosso con una fascia dorata la sua faretra era appoggiata a un albero e prese l'arco di curvo attraversò il ricco giardino del grande zeus e varcò poi le porte aeree d'olimpo là una strada scende dal cielo alla terra reggono la volta due cime d'altissimi monti sommità della terra là dove il sole si leva rosseggiante al mattino dei suoi primi raggi sotto di lui si vedevano il suolo fertile e le città degli uomini le acque sacre dei fiumi i monti e attorno il mare mentre passava nell'aria gli eroi nascosti appostati in un canneto del fiume tenevano l'assemblea sopra i banchi di argo parlava il figlio di esone e gli altri ascoltavano muti sedendo ciascuno in ordine al proprio posto amici miei voglio dirvi ciò che mi pare opportuno a voi spetterà far sì che venga compiuto comune l'impresa e comune a tutti il diritto a parlare chi tace chi tiene per sé pensieri e progetti sappia che toglie a tutti lui solo la via del ritorno voi altri restate tranquilli in armi presso la nave io andrò alla reggia dieta portando con me i figli di frisso e due altri compagni mi incontrerò col sovrano e proverò se posso convincerlo con le parole a darci il vello d'oro in amicizia o se invece fidando nella sua forza disprezzerà la richiesta in questo caso sapremo prima da lui stesso la nostra disgrazia e potremo pensare se affrontarla in battaglia o se vi sia qualche altro disegno efficace rinunciando alla guerra non usiamo la forza per togliergli il suo possesso prima di aver provato con la parola meglio andare da lui e compiacerlo con un discorso spesso il discorso ottiene senza fatica addolcendo gli animi come si conviene secondo il bisogno ciò che a fatica potrebbe giungere a conquistare il coraggio e eta ha pure accolto presso di sé l'incolpevole frisso che fuggiva dall'inganno della matrigna dal sacrificio del padre perché dappertutto e tutti anche l'uomo più cane rispettano e osservano la legge di zeus protettore degli ospiti così disse e i tutti insieme approvarono la parola di giacione nessuno aveva altre proposte ordinò allora i figli di frisso a telamone e ad augia che lo seguissero e prese lo scettro di ermes tosto balzarono giù dalla nave oltre l'acqua e le canne e misero piede a terra sopra un rialzo della pianura il suo nome è circeo e qui fioriscono molti filari di salici e tamarischi e alle cime di questi sono appesi cadaveri legati con delle corde ancora oggi infatti è sacrilegio per i colchi bruciare gli uomini e neanche è lecito loro sotterrarli e innalzare sui loro corpi il sepolcro le avvolgono dentro pelli di bue non conciate e li appendono agli alberi fuori città così l'aria parte uguale alla terra giacché sottoterra ripongono le donne e questa è la norma del loro costume e mentre procedevano era sollecita verso di loro sparse per la città una fittissima nebbia così da nasconderli alla folla dei colchi e loro cammino verso la reggia dieta quando ebbero percorso la piana e giunsero presso il palazzo allora la dea disperse di nuovo la nube si fermarono all'entrata stupiti a vedere il cortile del sovrano e le vaste porte i colonnati che cingevano tutti intorno le mura e in alto un fregio di pietra correva al di sopra dei capitelli di bronzo passarono tranquillamente la soglia accanto ad essa fiorivano rigogliose levandosi alte viti incoronate di pampini sotto le viti scorrevano quattro fontane perenni lavoro del dio efesto la prima versava latte la seconda vino la terza olio fragrante e l'ultima acqua calda verso il tramonto delle pleiadi e a loro sorgere invece usciva dalla roccia cava gelida come il ghiaccio queste opere illustri aveva compiuto l'abile efesto nel palazzo di età e aveva anche forgiato per lui dei tori dai piedi di bronzo e con le bocche di bronzo da cui soffiavano un fuoco terribile fabbricò inoltre un aratro tutto d'un pezzo di solido acciaio in segno di riconoscenza per il sole che l'aveva accolto sul suo carro quando era sfinito dalla battaglia di flegra anche la porta centrale era lavorata in metallo e accanto c'erano molte porte doppie ben costruite e stanze dall'una parte e dall'altra e per tutta la lunghezza ad un ricchissimo portico e di traverso a destra e a sinistra c'erano costruzioni più alte e nella più alta di tutte abitava con la sua sposa il grande età e in un'altra abitava sirto il figlio di età l'opartoria sterodea una ninfa del caucaso prima che il re prendesse come sposa legittima idea la figlia più giovane di oceano e di teti i giovani colchi usavano chiamarlo fetonte e cioè splendido perché brillava tra i suoi coetanei nelle altre stanze stavano le ancelle e le due figlie di età calciope e medea e fu medea che si videro uscire dalla sua camera per entrare nella camera della sorella era l'aveva tenuta a casa prima non era solita restare a palazzo anzi per tutto il giorno si prendeva cura del tempio di ecate ne era la sacerdotessa come li vide vicini gridò chiaramente l'intese calciope le ancelle lasciando cadere il filo e diffusi corsero fuori tutte affollandosi calciope uscita con loro vide i suoi figli e con grande gioia levò in alto le mani essi abbracciarono e salutarono a loro volta la madre felici piangendo calciope disse queste parole dunque non era destino che vagaste lontano lasciandomi nell'abbandono la sorte vi ha fatto tornare ahimè infelice quale desiderio vi ha preso della terra di grecia per qualche sciagurata follia seguendo il comando di frisso vostro padre che in punto di morte vi diede ordini penosi al mio cuore perché andare alla città di orcomeno quale che sia per le ricchezze del re atamante lasciando qui vostra madre in preda al dolore così disse e intanto il re eta uscì per ultimo e anche idea la sua sposa che aveva appena sentito calciope subito tutto il recinto fu pieno di folla alcuni servi prepararono un grande toro altri con la scura tagliavano legna secca altri mettevano l'acqua a bollire e nessuno si sottraeva a lavorare per il suo sovrano intanto giunse eros con l'aria chiara invisibile violento come si scaglia sulle giovani vacche l'assillo che i mandriani usano chiamare tafano rapidamente nel vestibolo accanto allo stipide tese il suo arco e prese una freccia intatta a portatrice di pene poi senza farsi vedere varcò la soglia con passo veloce e ammiccando e facendosi piccolo scivolò ai piedi di giasone adattò la cocca in mezzo alla corda tese l'arco con ambo le braccia e scagliò il dardo contro medea un muto stupore le prese l'anima lui corse fuori ridendo dall'altissima sala ma la freccia ardeva profonda nel cuore della fanciulla come una fiamma e lei sempre gettava il lampo degli occhi in fronte al figlio di esone e il cuore pur saggio le usciva per l'affanno dal petto non ricordava nient'altro e consumava il suo animo nel dolore dolcissimo come una filetrice che vive lavorando la lana getta fucelli sopra il tizone ardente e nella notte brilla la luce sotto il suo tetto si è alzata prestissimo la fiamma si leva immensa dal piccolo legno e riduce in cenere tutti i fucelli così a questo modo terribile eros insinuatosi dentro il cuore ardeva in segreto e smarrita la mente le morbide guance diventavano pallide e rosse quando i servi ebbero imbandita la mensa per gli ospiti ed essi si furono lavati nell'acqua calda si saziarono lieti di cibo e di bevande poi e eta interrogò benevolmente i nipoti rivolgendosi a loro con queste parole figli di mia figlia e di frisso ospite che ho onorato più di ogni altro nel mio palazzo come siete tornati alla terra di ea forse qualche disgrazia ha interrotto il vostro cammino non mi deste ascolto quando io vi dicevo l'enorme lunghezza del viaggio ben lo sapevo avendo percorso il ciclo del sole mio padre sul suo carro quando condusse all'occidente mia sorella circe e giungemmo alla costa tirrenica là dove essa vive ancora oggi molto molto lontano dalla terra di colchide ea ma a che tante parole ditemi chiaramente quale ostacolo avete trovato chi sono questi uomini che vi vengono dietro e dove siete sbarcati dalla concava nave a queste domande argo pensando con terrore all'impresa di giasone dede una risposta cortese prima dei suoi fratelli già che era lui il più anziano quella nave e eta ben presto l'hanno distrutta tempeste violente noi aggrappati a una trave nella notte oscura le onde ci hanno gettato sulle spiagge dell'isola sacra ad ares e nialo un dio ci ha salvato gli uccelli di ares che prima avevano il loro nido nell'isola disabitata non li trovammo più questi uomini che il giorno avanti erano scesi dalla loro nave li avevano tutti cacciati e li trattenne in quel luogo il foliere di zeus che ebbe pietà di noi o una qualche sorte perché ci diedero abbondanza di cibo e vesti udendo il nome illustre di frisso e il tuo perché venivano alla tua reggia e se vuoi saperne il motivo non te lo nascondo quest'uomo che vedi un re desiderando cacciarlo lontano dalla sua patria e dai suoi possessi poiché superava in valore tutti gli eolidi lo manda qui senza speranza e proclama che i nipoti di eolo non sfuggiranno all'ira tremenda di zeus implacabile alla sua rabbia all'insopportabile contaminazione al castigo per frisso prima che il vello d'oro ritorni in terra di grecia la nave la fabbricata palla di atena e non assomiglia alle navi dei colchi tra cui noi avemmo in sorte la più sciagurata l'hanno distrutta la furia delle acque e di venti la loro nave è ben inchiodata se anche le piombassero addosso tutte le bufere e corre ugualmente nel vento e quando gli uomini senza tregua fanno forza sui remi su questa nave ha radunato gli eroi più prodi di tutta la grecia e viene alla tua città dopo aver errato per tante città e mari terribili a chiederti il vello ma sarà come a te piace non viene ad usare la forza e vuole darti un compenso degno del dono da me ha sentito parlare dei tuoi nemici i sauromati li piegherà al tuo potere e poiché certo vuoi sapere anche il nome e la stirpe di questi uomini ti dirò tutto colui per il quale gli altri si sono raccolti da tutte le parti dell'ellade a nome giasone figlio di esone figlio di creteo e se veramente discende da creteo allora è nostro parente per parte di padre entrambi creteo e atamante erano figli di eolo e nostro padre era figlio di atamante figlio di eolo quest'altro che vedi è augia figlio del sole se mai ne hai sentito parlare e questo è telamone figlio del nobilissimo eaco nato da zeus e anche tutti gli altri compagni che seguono sono figli o nipoti degli dei immortali così parlò argo ma il re fu preso da furia al suo discorso e il petto gli si gonfiò per la rabbia disse con sdegno soprattutto era dirato coi figli di calciope però per a loro pensava erano giunti quegli altri e gli brillavano gli occhi turbati sotto le ciglia andatevene via lontano subito via dai miei occhi fuori da questa terra canaglie voi e i vostri inganni prima che a qualcuno di voi costi caro frisso e il vello tutti d'accordo non per il vello siete venuti qui dalla grecia ma tramando di togliermi lo scettro e l'onore regale se non vi foste prima accostati alla mia tavola vi avrei tagliata la lingua e troncate entrambe le mani e mandati via coi piedi soltanto perché in futuro non osiate più tentare simili imprese tali menzogne avete detto anche sugli dei beati così disse furioso e si gonfiava in profondo il cuore di telamone dentro di sé voleva rispondere agli in faccia parole di morte ma il figlio di esone lo trattenne e rispose lui prima in tono cortese non ti irritare eta per il nostro viaggio non al modo che dici veniamo alla tua città e alla tua reggia e neanche per nostro volere chi mai avrebbe l'audacia di attraversare tanto spazio di mare per prendere le cose da altri mi manda un dio e il feroce comando di un re superbo ti supplichiamo concedici il tuo favore ed io per tutta la grecia diffonderò la tua fama illustre noi siamo pronti a compensarti subito combattendo per te se tu decideri sottomettere al tuo cettro i sauromati o qualche altro popolo così disse con voce soave adulandolo e il cuore di eta era diviso nel petto tra due diversi pensieri se prenderli subito e ucciderli oppure provare il loro valore riflettendo questo gli parve il meglio e così rispose straniero perché parlare di tutto ciò punto per punto se veramente siete figli di dei o in ogni caso non mi siete inferiori voi che venite per prendere le cose da altri io ti darò il vello da portare via se lo desideri ma dopo una prova non sono invidioso degli uomini prodi come voi dite che è il sovrano di grecia la prova del tuo coraggio e della tua forza sarà una fatica di cui per quanto tremenda io vengo a capo con le mie braccia due miei tori pascolano nella piana di ares hanno piedi di bronzo e dalla bocca aspirano fuoco io li aggiogo e li conduco attraverso il duro campo di ares di quattro iugeri e dopo averlo arato fino in fondo rapidamente getto nei solchi non il seme del grano sacro a demetra ma i denti di un serpente feroce che una volta cresciuti prendono forma di uomini armati e io li falcio li uccido con la mia lancia quando mi vengono addosso da tutte le parti di buon mattino aggiogo i buoi e compio la mia titura al tramonto se tu sei capace di compiere questo lo stesso giorno potrai portare al tuo re il vello d'oro ma prima non te lo darò non sperarlo non sarebbe giusto che un valoroso ceda chi vale meno di lui così disse e giasone fissava gli occhi per terra restava muto disperato di fronte alla sua disgrazia per lungo tempo rivoltava dentro di sé la decisione da prendere e non riusciva ad affrontare arditamente l'impresa gli sembrava grandissima alla fine rispose con accortezza eta è nel tuo pieno diritto impormi questa durissima prova ed io l'affronterò per quanto terribile anche se il mio destino sarà di morirvi per gli uomini nulla è più duro della necessità spietata che mi conduce qui per comando di pelia così disse nella sua angoscia e a lui costernato e eta rispose con queste parole tremende va dunque dai tuoi compagni poiché sei disposto ad affrontare l'impresa ma se tu temi di aggiogare i buoi o fuggi di fronte al raccolto mortale allora farò di tutto perché ogni altro uomo in futuro non si arrischi più a presentarsi a uno più forte di lui così disse apertamente giasone si alzò dal suo seggio e con lui augia e telamone argolo seguì solo facendo segni ai fratelli di restare là nel frattempo uscirono dalla stanza e fra tutti splendeva il figlio di esone per la bellezza e la grazia e addosso a lui la fanciulla fissava lo sguardo obliquo scostando lo splendido velo estruggendosi il cuore di pena come in sogno la mente volava trascinandosi sulle tracce di lui che partiva gli eroi uscirono dalla rezza in preda all'angoscia calciope stando in guardia dall'ira di eta corse nelle sue stanze assieme ai figli e medea fece lo stesso ma nel suo animo si agitavano tutti gli impulsi d'amore davanti ai suoi occhi si formavano ancora le immagini di ogni cosa l'aspetto di giasone e l'abito che indossava come parlava e come sedeva e come si mosse ad uscire e nel pensarvi le sembrò che simile a lui non ci fosse nessun altro uomo le tornavano sempre alle orecchie la voce e le dolci parole che aveva sentite tremava per lui che non uccidessero i tori o lo stesso eta e già lo piangeva per morto senz'altro scorrevano per le sue guance le lacrime di tenero affanno e di pietà profondissima e sommessamente piangendo disse queste parole perché il dolore mi prende infelice va dalla malora costui che sta per morire grande eroe o uomo da poco se potesse sfuggire il leso alla morte sì questo possa avvenire divina signora ecate e ritorni salvo alla patria ma se è il suo destino perire sotto le fiere prima almeno lo sappia che io non mi rallegro della sua sorte funesta così la mente della fanciulla era sconvolta e turbata quando furono fuori dalla città e dalla gente per la strada che avevano fatto prima venendo dalla pianura allora argo si rivolse a giasone con queste parole figlio di esone tu disprezzerai l'idea che sta per dirti ma nessun tentativo va trascurato nella disgrazia è una fanciulla te l'ho già detto che pratica incanti sotto la guida della dea ecate figlia di perse se riuscissimo a persuaderla non ci sarebbe pericolo che tu soccomba alla prova ma temo ai me fortemente che nostra madre rifiuti di darci il suo aiuto e tuttavia tornerò là per pregarla poiché la morte incombe comune a tutti noi disse così saggiamente e il figlio di esone rispose mio caro se a te così piace io non te lo impedisco va e con parole accorte prega muovi tua madre ad agire ma veramente è una vana speranza se il nostro ritorno viene affidato alle donne così disse e presto arrivarono alla palude i compagni lieti facevano molte domande vedendoli giungere ma il figlio di esone parlò così tristemente amici miei il cuore del terribile eta è adirato contro di noi ma non servirebbe dirvi ogni cosa ne servirebbe a voi chiedere dice che pascolano nella pianura di ares due tori con i piedi di bronzo che dalla bocca spirano fuoco mi ha ordinato di arare con loro un campo di quattro iugeli e mi darà per semente i denti di un drago che fanno nascere da terra uomini armati e il giorno stesso devo ucciderli questo compito io l'ho accettato senza esitare non c'era scelta migliore così disse e a tutti l'impresa apparve impossibile a lungo muti senza parole si guardavano gli uni con gli altri abbattuti dalla sventura e dall'impotenza peleo alla fine parlò arditamente rivolgendosi a tutti i compagni ora è il momento di riflettere su cosa fare ma io non credo che nessun consiglio ci dia tanto aiuto quanto la forza delle nostre braccia se tu pensi di poter aggiogare i tori di eta eroe figli di esone e desideri questa fatica allora mantieni la parola che hai dato e preparati ma se il tuo cuore non ha fiducia piena ed intera nella tua forza allora tu non esporti e non stare a cercare un altro tra questi uomini io non mi tirerò indietro la morte è il peggio che può capitare così disse peleo a telamone si turbò il cuore nel petto e si alzò di slancio per terzo superbamente si revò in piedi ida e poi il figlio di tindaro e poi il figlio di eneo pari agli uomini di più maturo vigore benché sulle sue guance non fosse ancora la prima peluria di tale forza si esaltava il suo animo gli altri si ritirarono restando in silenzio ma subito argo tenne questo discorso agli eroi bramosi di lotta amici miei sarà questa l'ultima scelta ma penso piuttosto che un utile aiuto mi verrà da mia madre per quanto impazienti restate perciò nella nave dove siete è sempre meglio aspettare che per audacia scegliersi una morte terribile vive una fanciulla nel palazzo di aeta che la dea ecate ha più di ogni altra istruita nell'arte di tutti i filtri che produce la terra e il mare infinito e con essa sa domare la forza del fuoco instancabile e ferma in un momento le acque scrocianti dei fiumi incatena gli astri e le sacre vie della luna venendo qui dal palazzo durante la strada abbiamo pensato se nostra madre che lei è sorella potesse persuaderla a venirci in aiuto in questa prova se anche a voi piace oggi stesso io sono pronto a tornare alla reggia di aeta tenterò e forse tenterò con l'aiuto di un dio così disse e gli dai propizi inviarono un segno una colomba tremante fuggendo dalla violenza di uno sparviero cadde dall'alto atterrita nel grembo del figlio di esone e lo sparviero si impalò sulla plustre allora subito mopso rivolse a tutti i compagni queste parole profetiche amici questo segno ci giunge per volere divino non saprei dargli nessun altro senso migliore andare dalla fanciulla e parlarle con ogni mezzo io non la credo insensibile al nostro destino se è vera la profezia di fineo anche in afrodite risiede la speranza del nostro ritorno ora il suo dolce uccello è scampato alla morte e come il mio cuore prevede secondo questo prodigio così possa essere pregate amici miei ci terea di venirci in aiuto e senza indugio seguite il consiglio di argo disse e i compagni approvarono memori delle istruzioni di fineo solo il figlio di afareo ida si levò in piedi e infuriato gridò a grandissima voce ahimè siamo venuti qui in compagnia di donnette che chiamano il loro soccorso afrodite rifiutano il combattimento e badano alle colombe e agli sparvieri non più alla forza di ares andate in valora e non pensate più alle cose di guerra ma sedurre con preghiere le fragili vergini così parlava con rabbia e molti compagni mormoravano a bassa voce ma nessuno lo contraddisse sedette allora pieno di collera subito giasone li rincuorò ed espose il suo pensiero argo lasci la nave poiché così è stato deciso da tutti ma noi altri dal fiume approdiamo alla terra e apertamente gettiamo le gomene non è più tempo di stare nascosti evitando il combattimento così disse per subito impose ad argo di ritornare in città velocemente gli altri secondo il comando di giasone tirarono a bordo le ancore e a forza di remi uscirono un poco dalla palude e si accostarono a terra subito e eta convocò l'assemblea dei colchi fuori del suo palazzo là dove si riunivano anche in passato e qui tramava inganni e mali irresistibili contro gli eroi appena i tori avessero fatto a pezzi colui che accettò la terribile prova bisognava tagliare gli arbusti in cima alla folta collina e incendiare la nave assieme a tutti gli uomini sputassero fuori la loro infausta superbia coloro che avevano osato un disegno così tracotante neanche frisso il nipote di eolo benché fosse in grande bisogno l'avrebbe mai accolto nella sua casa frisso che pure si distingueva tra tutti gli ospiti per la pietà e la mitezza se Zeus in persona non mandava hermes dal cielo e il suo messaggero perché le preghiere trovassero buona accoglienza tanto meno sarebbero a lungo rimasti impuniti i pirati che erano venuti nella sua terra che avevano in animo di mettere le mani sui beni altrui e tramare inganni nascosti e saccheggiare le stalle con scorrerie di ribaldi e inoltre gli avrebbero pagato il giusto castigo i figli di frisso che senza scrupolo si erano uniti a dei malfattori per togliergli il trono e lo scettro regale come gli aveva predetto l'oracolo luttuoso del sole suo padre che ben doveva guardarsi dagli inganni sottili dai progetti della sua stirpe dalla sventura versatile proprio per questa ragione li mandò come loro volevano in terra di grecia a eseguire i comandi del padre un lungo viaggio delle sue figlie non aveva timore che concepissero contro di lui pensieri odiosi e di suo figlio assirto neppure nei figli di calciope era per lui la rovina così nell'ira svelava i suoi tremendi progetti al popolo e li minacciava sorvegliassero bene la nave e gli uomini e nessuno spuggisse alla morte intanto argo tornato al palazzo di età pregava con ogni mezzo la madre che supplicasse medea di soccorrerli e già calciope stessa ci aveva pensato ma la tratteneva il timore o che le sue preghiere riuscissero inutili e fuori luogo se medea atterrita dalla collera atroce del padre o se medea pure cedeva che tutto venisse alla luce un sonno profondo riposava dai suoi dolori medea distesa sul letto ma la turbavano sogni terribili ingannatori come succede a chi è in preda all'angoscia ne sembrava che lo straniero affrontasse la prova non per il desiderio di portar via il vello d'oro che non per questo fosse venuto alla reggia di età ma per portarla nella sua casa come legittima sposa e vedeva se stessa lottare coi tori e sconfiggerli agevolmente ma i suoi genitori mancavano alla promessa dicendo che non a lei avevano dato l'incarico di aggiogare i tori e tra gli stranieri e suo padre sorgeva una lite insanabile entrambe le parti si rimetteva a lei sarebbe stato ciò che sceglieva il suo cuore e lei sceglieva subito lasciava i suoi genitori per lo straniero loro riprese un immenso dolore e diedero un grido di raffurente sparve il sonno a quel grido e balzò su tremando per la paura e guardò intorno ai muri della sua stanza a stento riprese fiato nel petto e gridò infelice quale terrore mi ha dato il sogno angoscioso temo che da questo viaggio sorga un enorme sciagura palpita per lo straniero il mio cuore là nella sua patria lontana sposi una donna greca io devo darmi pensiero della mia vita di vergine della casa dei miei genitori tuttavia voglio crearmi un cuore che sia pronto a tutto e non restare più sola ma tentare se mai mia sorella mi chieda aiuto in questo frangente temendo per i suoi figli sì questo potrebbe spegnere dentro il mio cuore la pena disse e si alzò dal letto e aprì di colpo la porta vestita della sola tunica e a piedi nudi voleva vedere calciope subito e varcò la soglia del cortile ma poi lungo tempo restò nel vestibolo trattenuta dalla vergogna e si volse e tornò indietro e dalla sua camera di nuovo si gettò fuori e di nuovo rientrò inutilmente i piedi la portavano avanti e indietro quando avanzava la vergogna la teneva ferma là dentro trattenuta dalla vergogna la spingeva il desiderio possente per tre volte tentò e si fermò per tre volte alla quarta si sentì mancare e cadde prona sul letto come una giovane sposa piange nella stanza nuziale lo splendido sposo a cui l'hanno data i genitori e i fratelli e per vergogna e riservo non si mescola alle sue ancelle resta seduta in disparte e soffre il dolore lui l'ha ucciso il destino prima che entrambi godessero il reciproco amore piange la donna straziata in silenzio e fissa gli occhi sul letto vuoto temendo il sarcasmo e le ingiurie delle altre donne così piangeva medea improvviso la vide una giovane ancella venuta in quel punto una sua serva e lo riferì a calciope subito essa sedeva tra i figli pensando al modo come poteva persuadere medea ma di aderetta all'ancella quando udita lei la parola in attesa stupita si lanciò dalla sua camera nella camera dove presa d'angoscia la giovane si era buttata sul letto e si straziava le guance come vide gli occhi inondati di pianto così le disse ahimè medea perché queste lacrime cos'è accaduto quale pena crudele è giunta dentro il tuo cuore forse un male divino ti ha invaso oppure hai saputo qualche funesta minaccia di nostro padre su di me e sui miei figli oh vorrei non vedere più la casa dei miei genitori nella città e abitare i confini del mondo dove non esiste neppure il nome dei colchi così disse e le guance di lei arrossirono voleva rispondere ma la trattenne a lungo il pudore di vergine le parole le fiorivano talvolta dalla punta della lingua talvolta piombavano in fondo al petto e spesse volte correvano alla bocca suave ma non diventavano suono finalmente parlò con inganno perché la sconvolgevano gli impulsi arditi d'amore il mio cuore calciope si turba per i tuoi figli che ben presto mio padre non li uccida con gli stranieri poco fa in un brevissimo sonno ho veduto sogni luttuosi che un dio non li lasci compiersi che tu non abbia un dolore terribile per i tuoi figli disse e tentava così la sorella se mai per prima la supplicasse di venire in aiuto ai suoi figli calciope fu travolta da una pena insopportabile atroce per la paura di ciò che aveva sentito rispose con queste parole anch'io pensando a tutto ciò sono venuta da te perché tu mi aiutassi a trovare a preparare un soccorso ma giura sul cielo e la terra che quello che dico lo terrai nel tuo cuore e agirai insieme con me per gli dèi ti imploro per te stessa per i genitori fa che io non veda i miei figli sbranati da un destino funesto miseramente o morendo assieme con loro sarò per te dalla tomba un erinni tremenda così disse e mentre parlava scendeva un pianto di rotto e a terra le abbracciava con le mani i ginocchi chinarono insieme il capo sul petto ed entrambe intonarono l'una accanto all'altra il lamento attraverso la casa si levò il suono soffocato dei loro dolori poi per prima medea angosciata parlò alla sorella infelice quale rimedio posso trovare per te che mi parli di maledizioni tremende o di erinni o se fosse in mio potere di salvare i tuoi figli e come mi chiedi io giuro il giuramento più grande dei colchi per il grande cielo e la terra profonda madre di tutti gli dèi che quanto è nelle mie forze non ti verrà a mancare purché tu mi chieda il possibile disse e calcio per rispose a lei con queste parole non puoi tu per lo straniero che te lo chiede lui stesso pensare un inganno o un qualche altro espediente che lo aiuti nella prova per amore dei miei figli argo viene da lui e mi prega di chiederti aiuto recandomi qui l'ho lasciato nelle mie stanze così disse e a lei dentro il petto il cuore balzò dalla gioia ma insieme lo splendido volto arrossì e lo coprì come un'ombra di piacere poi finalmente disse queste parole farò come volete calciope come vi piace possa non risplendere più l'aurora ai miei occhi e possa tu non vedermi vivere a lungo se per me conta qualcosa più della tua vita e dei tuoi figli che mi sono cari nipoti e compagni di infanzia perché io sono tua sorella e anche insieme tua figlia a me come a loro hai offerto il tuo seno quando ero piccola così mi diceva mia madre ma tu va e proteggi col silenzio la mia promessa che io possa compierla all'insaputa dei genitori domattina andrò al tempio di ecate e porterò il filtro incantato allo straniero per il quale è sorta questa contesa così calciope uscì dalla stanza e disse ai suoi figli l'aiuto della sorella ma lei rimasta sola la prese di nuovo il pudore e una feroce paura che cosa aveva pensato per un uomo contro suo padre la notte portava il buio sopra la terra nel mare i naviganti guardavano all'orsa e alle stelle di orione desideravano il sonno il viandante il guardiano uno spesso torpore avvolgeva perfino la madre che ha perduto i suoi figli non più guaire di cani per la città non rumore sonoro il silenzio possedeva le tenebre sempre più nere ma il sonno suave non prese medea molte ansie la tenevano sveglia nel desiderio di giasone temeva la forza brutale dei tori a cui doveva soccombere di morte crudele lottando sul campo di ares il cuore batteva fitto dentro il suo petto come dentro a una casa guizza un raggio di sole dall'acqua appena versata in una caldaia o in un vaso e nel mulinello vibra qua e là veloce così s'agitava nel petto il cuore della fanciulla versava dagli occhi lacrime di compassione e dentro la pena la rodeva senza riposo insinuandoci sotto la pelle fino ai nervi sottili fino all'estremità della nuca là dove penetra il dolore più acuto quando gli impulsi d'amore instancabili scagliano la sofferenza dentro il petto degli uomini e in un momento si diceva di dargli il rimedio fatato e poi di non darglielo anzi morire anche lei e ancora poi di non darglielo ma neppure morire restare ferma e affrontare la propria sventura poi sedette nel dubbio e disse queste parole me infelizia tra quali e quali sventure mi trovo da ogni parte il mio cuore non ha che angoscia e impotenza nessun rimedio alla pena alla fiamma ferma che brucia come vorrei che mi avessero uccisa tra le frecce veloci di artemide prima che io lo vedessi prima che la nave greca portasse qui i figli della mia sorella calciope un dio o nerini li ha guidati di là per il mio dolore e il mio pianto muoia se il destino è di morire sul campo ma io come potrei preparare il rimedio nascondendolo ai miei genitori e cosa dire qual è il pensiero l'inganno che mi dia aiuto posso vederlo rivolgermi a lui solo senza compagni infelice anche quando sia morto non spero di avere respiro dai mali allora per me verrà la sventura quando avrà perso la vita alla malora il pudore e la fama e lui salvo per mio volere se ne vada via il leso dove il suo cuore desidera ma io il giorno stesso quando avrà compiuta la prova morrò appendendo il mio collo al soffitto o bevendo il veleno che distrugge la vita eppure anche da morta lo so scaglieranno contro di me le voci maligne l'intera città griderà la mia sorte e le donne di colchide mi porteranno con spregio di bocca in bocca l'una con l'altra colei chiamò un uomo straniero fino a morirne e disonorò la sua casa e i suoi genitori cedendo alla lussuria quale non sarà la vergogna quale la mia sventura meglio sarebbe in questa notte stessa in questa stanza lasciare la vita per un destino nascosto sfuggendo a tutti i rimproveri prima di aver compiuto colpe innominabili disse e cercò il cofanetto dove erano tutti i suoi filtri quelli benefici e quelli mortali gemeva tenendolo sulle ginocchia e bagnava il seno di lacrime che cadevano fitte senza tregua mentre pensava alla sua terribile sorte desiderava scegliere i filtri mortali ed inghiottirli e già nel suo desiderio infelice scioglieva i lacci ma d'improvviso le venne nel cuore una cupa paura del regno odioso dei morti la sto a lungo muta scomenta davanti a lei passavano tutte le dolcezze dell'esistenza ricordava i piaceri che toccano ai vivi le gioiose compagnie della sua giovinezza e il sole apparve più dolce di prima ai suoi occhi quando passò ogni cosa al vaglio della ragione depose dalle ginocchia il cofanetto mutando pensiero secondo il volere di era e non dubitava più tra i diversi progetti ma desiderava che venisse subito l'alba per dargli il filtro che aveva promesso e poterlo vedere nel volto e spesso apriva la porta della sua camera spiando la luce e finalmente l'aurora le portò il sole agognato e tutti si mossero per la città intanto argo ordinò ai suoi fratelli di restare lì ancora cercando di capire l'animo e i pensieri della fanciulla lui li lasciò invece e li precedete alla nave medea quando vide la prima luce dell'alba raccolse con le mani i biondi capelli irrequieti e le cadevano senza cura poi lavò le guance secche dal pianto e unse la pelle con un unguento di nettere e indossò uno splendido peplo tenuto fermo da fibbie eleganti e si mise sul capo bellissimo un velo bianco muovendosi su e giù per la casa batteva i piedi scordando il dolore che era nel suo presente e quello più grande che avrebbe avuto in futuro chiamò le dodici ancelle che tutte dormivano nel vestibolo della sua stanza fragrante sue coetanee che mai avevano ancora diviso il letto con uomini e fece a giocare in fretta al carro i muli che la portassero allo splendido tempio di ecate e mentre le ancelle preparavano il carro estrasse dal profondo del suo cofanetto il filtro che dicono porta il nome di prometeo chi dopo essersi propiziata da ira la dea unigenita con sacrifici notturni ne unge il corpo non è vulnerabile ai colpi del bronzo ne cede all'ordore del fuoco ma per tutto quel giorno è più forte e più grande nacque la prima volta quando l'uccello carnefice fece colare a terra sulle montagne del caucaso il sangue divino dell'infelice prometeo crebbe un fiore alto un cubito che ha lo stesso colore del crocco coricio e poggia su un duplice stelo dentro la terra la radice pareva carne appena tagliata l'umore simile al succo nero delle querce medea lo aveva raccolto per farne un filtro in una conchiglia del caspio e si bagnò sette volte nelle acque perenni e sette volte invocò la dea brimo la grande nutrice brimo notturna infernale la regina dei morti nella notte nera coperta da abiti neri e quando tagliò la radice nata dal sangue titanico la terra scura si scosse con un muggito profondo e già mette lo stesso figlio di giappeto angosciato dalla sofferenza prese il filtro e lo mise dentro la fascia fragrante che le cingeva il seno bellissimo poi uscita di casa montò sul carro veloce e con lei a destra e a sinistra due ancelle lei stessa prese in mano le redini e nella destra la sferza ben lavorata guidava per la città e le altre ancelle attaccate di dietro al carro correvano lungo la vasta strada e sollevavano sopra i bianchi ginocchi le tuniche morbide come sulle rive del dolce fiume pertenio la figlia di leto o dopo il bagno nelle acque dell'amnisio avanza per le montagne in piedi sul carro dorato portata dalle veloci cerbiatte verso una ricca ecatombe lontana le vengono dietro le ninfe compagne quali raccolte alla stessa sorgente dell'amnisio quali venute dai boschi e dalle vette ricche di fonti attorno le fiere muovono la coda e ulunano tremando al suo passaggio così correva per la città e attorno la folla cedeva il passo evitando lo sguardo della fanciulla regale quando ebbe lasciato le vie ben tracciate della città e attraversò la piana e fu giunta al tempio salto giù senza indugio dal rapido carro con slancio e parlò in questo modo alle ancelle mie care ho commesso un errore non ho capito che non dovevo andare tra gli stranieri che si aggirano per la nostra città la città tutta è presa d'angoscia per questo non è venuta nessuna delle donne che si radunavano qui tutti i giorni ma poiché noi siamo qui e non verrà nessun altro saziamo il nostro cuore con il piacere del canto e poi colti i fiori dalla tenera terra torneremo a casa allora consueta ma voi tornerete con moltissimi doni oggi se mi darete aiuto nel mio proposito argo cerca di persuadermi e anche calciope ma voi ascoltate queste parole e serbate il silenzio che non giungano mai all'orecchio di età che accetti dei doni per proteggere questo straniero quello che si è impegnato ad affrontare i tori nella terribile prova ho accolto le loro proposte e l'ho invitato a venire davanti a me solo senza compagni così che i suoi doni li divideremo tra noi e gli daremo un filtro che non gli giovi ma voi quando arriva vi prego state lontane così disse e a tutte loro piacque il progetto ingannevole intanto argo prese con sé zazone separandolo dai suoi compagni non appena i fratelli gli ebbero detto che presto di buon mattino medea si recava al tempio della dea ecate e lo guidava per la pianura insieme con loro era mopso figlio di ampico capace di spiegare le apparizioni di uccelli e di dare buoni consigli ai compagni di strada mai nessuno al tempo degli uomini antichi nessuno dei semidei figli di zeus stesso e degli altri immortali fu quale la sposa di zeus rese in quel giorno il figlio di esone nell'aspetto e nella parola gli stessi compagni erano stupefatti di vederlo risplendere di tutte le grazie l'indovino figlio di ampico che già sapeva ogni cosa si rallegrava del viaggio c'è sulla strada nella pianura nei pressi del tempio un pioppo fiorito di innumerevoli foglie dove spesso si rifugiano le loquaci cornacchie e una di loro in quel punto battendo le ali dall'alto di un ramo lo schermì in questo modo dicendo il volere di era ecco un indovino incapace non sa ciò che sanno anche i bambini che nessuna parola soave nessuna parola d'amore può dire una giovane a un giovane quando altri estranei ci sono di mezzo alla malora sciocco indovino neafrodite propizia di spira e neanche i dolcissimi impulsi d'amore questo fu il suo rimprovero e mopso sorrise a sentire la parola divina della cornacchia e così disse a jasone va al tempio di ecate e troverai la fanciulla jasone e la troverai dolce e benevola grazie al volere di cipride che sta al tuo fianco in quest'impresa come ci aveva già detto prima il figlio di agenore fineo ma io e argo resteremo qui in disparte e aspetteremo che torni perché tu solo devi pregarla e persuaderla con parole sapienti parlava accortamente e gli altri due la provarono ma l'animo di medea non poteva volgersi ad altro pure in mezzo ai canti quale che ella intonasse non le piaceva a lungo l'interrompeva angosciata e non riusciva a guardare tranquillamente le ancelle ma sempre girava il volto lontano a fissare la strada e più volte il cuore le si spezzava nel petto chiedendosi se era il vento che le correva vicino o il rumore di un passo non molto tempo dopo egli apparve al suo desiderio quale si leva sirio in alto sopra l'oceano allorché sorge nitido e bello alla vista eppure porta infinite sciagure alle grezzi così bello a vedersi giunse il figlio di esone eppure le portava il travaglio di una passione angosciosa il cuore le cadde dal petto le si annebbiarono gli occhi un caldo rossore le invase le guance non pote muovere le ginocchia né avanti né indietro i piedi erano come inchiodati intanto le ancelle si erano fatte in disparte lontano erano muti senza parole l'uno vicino all'altra come le querce e i grandi pini che hanno radici nei monti e stanno senza vento vicini ed immobili ma poi sotto il soffio del vento si agitano e sussurrano senza fine così a quel modo stavano per parlare a lungo ispirati da amore il figlio di esone la vide colpita da un male divino e le rivolse parole come carezze perché fanciulla tanto ritegno di fronte a me sono solo e non sono arrogante come tanti altri non lo ero neppure nella mia patria lascia perciò l'eccessivo pudore chiedimi o dimmi liberamente ciò che ti piace poiché ci troviamo amici l'uno dell'altra in un luogo sacro dove non è permessa la frode parla chiedi apertamente e non mi ingannare con belle parole poiché tu per prima hai promesso a tua sorella di darmi il filtro che mi bisogna ti imploro in nome di ecate e dei tuoi genitori di zeus che stende la mano sugli ospiti e i supplici e io per te sono insieme supplice e ospite io che per un destino invincibile cado ai tuoi ginocchi senza di te non posso vincere la durissima prova e secondo giustizia di sarò grato in futuro come può esserlo chi vive tanto lontano dando gloria al tuo nome così gli altri eroi ritornati in terra di grecia ti celebreranno e insieme anche le loro spose e le madri che già ci piangono sedute sulla riva del mare tu potresti disperdere il loro dolore anche teseo fu salvato nella durissima prova da un affetto di vergine da arianna la figlia che diede a minosse pasife la figlia del sole quando minosse placò la sua ira salì sulla nave con lui e lasciò la sua patria fu cara anche agli dei e un segno nel mezzo del cielo una corona di stelle che porta il nome di arianna si volge tutta la notte fra le figure celesti e così anche a te renderanno grazie gli dei se tu salvi un così grande stuolo di eroi dal tuo aspetto sembra che tu possegga la bontà più soave così ne tesseva le lodi ed ella abbassando gli occhi ebbe un sorriso divino e le balzò il cuore nel petto si sentì come levare in alto e lo guardò dritto negli occhi non sapeva quale parola dirgli per prima perché voleva dirgli tutto insieme nello stesso tempo poi senza esitare estrasse dalla fascia fragrante il filtro ed esultando giasone l'accolse nelle sue mani tremando tutto il suo cuore gli avrebbe dato se glielo chiedeva strappandolo al petto così dolcemente rifulgeva l'amore dal biondo capo di giasone e le rapiva gli occhi lucenti e la gioia scioglieva il suo animo come all'aurora la rucciata si scioglie sopra le rose tutti e due nel loro pudore tenevano gli occhi fissi per terra talora e talora lanciavano sguardi l'uno sull'altra sorridendo d'amore sotto le ciglia splendenti finalmente a fatica medea parlò al figlio di esone in questo modo ascolta bene come ho pensato di venirti in aiuto quando mio padre ti avrà consegnato i denti funesti strappati alla bocca del drago che tu dovrai seminare attendi l'ora che divide in due parti la notte e bagnati nelle acque perenni del fiume solo senza compagni vestito di abiti scuri poi scava una fossa rotonda poi sgozza un'agnella e senza tagliarla ponila cruda su una pira sopra la fossa e rendi onore a decade figlia unigenita della dea perse li bando da una coppa l'opera dell'alveare quando ti sarai resa propizia debitamente la dea allontanati dalla pira nei rumori di passi nell'attrato di cani ti facciano voltare indietro tutto sarebbe distrutto e con un cattivo auspicio torneresti alla nave tra i tuoi compagni al mattino inumidisci il filtro poi spogliati e ungiti il corpo avrà una forza infinita un vigore possente e lo daresti simile a quello di un dio non già degli uomini ma ungine anche la lancia e inoltre lo scudo e la spada non ti feriranno le armi degli uomini nati dal suolo né l'irresistibile fiamma che spira dai tori non sarà a lungo così ma per tutto quel giorno non temere dunque la prova ancora io voglio darti un aiuto quando avrai aggiogato i fortissimi tori e rapidamente arato con le tue braccia il duro campo spunteranno già lungo i solchi i giganti dai denti del drago seminati nell'oscurità della terra appena li avrai veduti levarsi dal suolo in gran numero allora tu di nascosto getta una grossa pietra così che su di essa i giganti come cani voraci attorno ad un osso si uccideranno gli uni con gli altri affrettati allora a combattere in questo modo riporterai il vello di ea nella lontana terra di grecia andrai dove ti piace dove ti è caro quando sarai partito da questo luogo così disse e in silenzio teneva gli occhi per terra e bagnava le guance bellissime di calde lacrime al pensiero che lui stava per affrontare il mare e andare lontano e poi di nuovo guardandolo in viso gli disse parole angosciose gli prese la destra il pudore aveva lasciato i suoi occhi ricordati quando sarai tornato nella tua patria il nome di medea come io per quanto lontano ti ricorderò ma dimmi ti prego dov'è la tua casa dove andrai per mare una volta partito andrai forse alla città del ricchissimo orcomeno o vicino all'isola di ea parlami della fanciulla che prima hai nominato l'illustre figlia di pasife che fu sorella a mio padre disse e anche in lui si insinuava come le lacrime della fanciulla il terribile amore e le diede questa risposta no certamente né giorno né notte io penso di poter scordarmi di te se scampo alla morte se davvero riuscirò a fuggire in colume in grecia e da eta non mi proponga qualche altra prova più dura ma se a te piace avere notizie della mia patria te le darò questo è anche il mio desiderio c'è una regione circondata da altissimi monti ricca di grezzi e di pascoli dove prometeo figlio di giapeto generò il buon deucalione che per primo fondò una città e innalzò templi agli dei immortali e per primo furè di uomini le genti vicine chiamano questa terra tessaglia qui è iolco la mia città e molte altre dove non si è mai sentito neppure il nome dell'isola eea di qui minia è partito minia il figlio di eolo di cui si dice che abbia fondato orcomeno accanto ai tebani ma perché dirti parole vane sulla mia casa e sulla famosissima arianna la figlia di minosse arianna è il fulgido nome dell'amabile vergine di cui mi hai domandato allo stesso modo come minosse con teseo per lei tuo padre accettasse di esserci amico la carezzava così con suavi parole ma nel suo animo medea era scossa dai più crudeli tormenti e gli rivolse a flitta queste chiare parole stipulare dei patti è bello in grecia capisco ma non è uomo è età quale tu dici che fu minosse lo sposo di pasife e neanch'io sono uguale ad arianna perciò non parlarmi dei vincoli che legano l'ospite all'ospite ma tu di me quando sarai lontano alla terra di iolco ricordati e anch'io di te anche contro i miei genitori mi ricorderò e mi verrà una voce o un uccello che reca messaggi se tu mi dimenticherai o possano rapirmi le veloci bufere e portarmi di là del mare a iolco che io ti guardi negli occhi ti rimproveri e ti ricordi che fu solo per mio volere che sei sfuggito alla morte o come vorrai apparire in attesa il tuo focolare nella tua casa così disse e pietose lacrime ricavano il volto il figlio di esone le rispose mia cara lascia che le bufere si disperdano vuote lascia l'uccello che reca messaggi e vano quello che dici se tu verrai in quei luoghi nella terra di grecia avrai onore e rispetto dagli uomini e dalle donne ti veneranno come una dea poiché però per la tua faranno ritorno ai loro figli e i fratelli e i compagni e i giovani sposi scamperanno alla sventura dividerai con me il letto nuziale legittimo e niente mai potrà separare il nostro amore prima che ci avvolga la morte segnata così disse e il cuore di lei si sciolse nel petto ma insieme si agghiacciò a vedere di fronte a sé l'azione terribile infelice non doveva rifiutare ancora per molto di abitare la grecia così era aveva voluto che la fanciulla di ea giungesse alla sacra terra di iolco per la rovina di pelia lasciando la terra dei padri le ancelle la guardavano stando lontana in silenzio turbate ormai era l'ora di ritornare a casa presso la madre ma bedea non pensava al ritorno l'animo invaso di gioia per la bellezza e le sapienti parole del figlio di esone se lui stesso vigile attento non le diceva alla fine è ora di andare prima che ci sorprenda il tramonto del sole e qualche estraneo si accorga di tutto un'altra volta torneremo in questo luogo e ancora ci incontreremo così solo fino a quel punto tentarono l'animo l'uno dell'altra con dolci parole e si separarono il figlio di esone si mosse lietamente per tornare alla nave e ai compagni e medea dalle ancelle e si fecero incontro tutte insieme ma lei non le vide neppure perché l'anima volava alta in mezzo alle nubi e i suoi piedi da sé la portarono sopra il carro veloce e prese in una mano le redini nell'altra la frusta i muli corsero alla città e al palazzo al suo arrivo le fece molte domande calciope afflitta per i suoi figli medea nell'angoscia dei pensieri mutevoli non sentiva una sola parola e non voleva rispondere a quelle domande sedette ai piedi del letto su un basso scabello appoggiando di lato la guancia alla mano sinistra e fissava gli occhi umidi pensando a quale terribile fatto aveva deciso di dare il suo aiuto quando il figlio di esone ebbe raggiunto i compagni dove li aveva lasciati si mise in cammino con loro per arrivare dagli altri e raccontava ogni cosa giunsero insieme alla nave gli eroi gli fecero festa come lo videro l'interrogarono e lui a tutti rispose sul progetto della fanciulla e mostrò il terribile filtro solo tra i compagni ida rimase in disparte masticando la bile ma gli altri erano lieti e quando scese la notte scura a fermarli tranquilli si presero cura dei loro bisogni poi a levarsi del sole mandarono ad età due uomini a chiedere il seme il prode telamone ed etalide il figlio di ermes andarono e non fecero inutilmente la strada al loro arrivo età consegnò per la prova i terribili denti del drago aonio che cadmo giunto in tebe e ogigia alla ricerca di europa uccise quando era a guardia della fonte di ares ivi si stabilì l'eroe condotto dalla giovenca che il vaticinio di apollo gli diede a guida del viaggio atena la dea tritonide strappò i denti dalle macelle del drago e li diede in dono ad età e all'uccisore cadmo il figlio di agenore li seminò nei campi da onia e ai figli del suolo quelli che non aveva mietuto la lancia di ares diede dimora in quella terra gli altri età gli fece portare ben volentieri alla nave non pensava che giasone avrebbe compiuto l'impresa neppure se fosse riuscito ad imporre il loro gioco ai due tori il sole scendeva lontano sotto la terra scura ad occidente al di là delle estreme vette d'etiopia la notte aggiogava i cavalli gli eroi preparavano il letto accanto alle gomene intanto giasone quando le stelle dell'orsa fulgente furono tramontate e l'aria del cielo fu tutta serena andò nel luogo deserto di nascosto come un ladro con tutto ciò che serviva durante il giorno aveva disposto ogni cosa argo gli portò delle grezze un'agnella e del latte il resto lo prese dalla nave stessa ma quando ebbe visto un luogo in disparte dalle vie percorse degli uomini in un prato intatto resposto al cielo sereno qui prima di tutto lavò pianamente il bel corpo nell'acqua del fiume sacro e quindi indossò il suo mantello nero quello che un tempo gli aveva donato issipele la regina di lemno in memoria del dolce legame poi scavò nel terreno una fossa di un cubito e ammucchiata la legna tagliò la gola all'agnella e la distese là sopra poi diede fuoco alla legna mescolò e versò le libagioni invocando ecate brimo in aiuto alle sue imprese quando l'ebbe invocata tornò indietro la dea tremenda ludì e dai recessi profondi venne a ricevere l'offerta il capo era cinto di spaventosi serpenti intrezzati con rami di quercia lampeggiava l'immenso bagliore delle sue fiaccole d'intorno urlavano con acuti latrati i cani infernali tremavano tutte le erbe al suo passaggio diedero un grido le ninfe delle paludi che danzavano sopra quei prati del fasi amaranzio il terrore prese il figlio di esone e tuttavia non si volse indietro fino a quando fu giunto in mezzo ai compagni sulle nevi del caucaso già sorgeva l'aurora e diffondeva la luce allora età si cinse al petto la salda corazza che gli diede ares quando con le sue mani ebbe ucciso mimante di flegra si mise sul capo l'elmo dorato con quattro creste splendente come il globo di luce del sole appena si leva dall'acqua d'oceano e poi prese lo scudo fatto di molte pelli e la spada tremenda invincibile nessuno poteva resistervi degli eroi da quando lasciarono eracle in terre lontane lui soltanto avrebbe potuto combattere da pari a pari fetonte gli portò accanto lo splendido carro e i cavalli veloci perché vi salisse ed età salì e prese in mano le redini sull'ampia strada uscì di città per assistere alla prova ed assieme a lui si mosse una folla infinita quale sopra il suo carro posidone si reca ai giochi dell'istmo o al tenero o alla fonte di lerna oppure al bosco di on che stoianzio o spesso raggiunge coi suoi cavalli calauria la roccia tessala o la selvosa geresto tale era l'aspetto di età il signore dei colchi intanto giasone inumidì il filtro secondo i consigli di medea e ne unse lo scudo la grande lancia e la spada accanto a lui i compagni saggiarono le sue armi con tutte le loro forze ma non riuscirono a piegare la lancia nemmeno un poco era infrangibile e nelle loro mani restava rigida e ferma sdegnato ida percosse l'impugnatura con la grande spada ma al colpo si ritrasse la lama come il martello sopra l'incudine allora gli eroi gridarono lieti nella speranza della vittoria poi giasone si unse e in lui penetra una forza terribile immensa intrepida le sue braccia fremevano sprigionando vigore come un cavallo guerriero desideroso di entrare in battaglia salta nitrisce per quote il terreno e solleva il collo superbamente drizzando le orecchie così godeva il figlio di esone della forza delle sue membra e spesso balzava qua e là prendendo scudo di bronzo e la lancia di frassino avresti detto un fulmine nella tempesta che guizza nel cielo avvolto nell'oscurità piombando giù dalle nuvole che stanno per rovesciare a terra la pioggia più nera non erano più lontani dall'affrontare la prova si misero subito in ordine ai loro banchi e si affrettarono verso la piana di ares era dall'altra parte della città non lontano quanto dista dalla partenza la meta ad una corsa sui carri quando alla morte del re i suoi parenti brandiscono gare a piedi e da cavallo e là trovarono a eta e la folla dei colchi questi a piedi sulle pendici del caucaso il re sulla riva dove il corso del fiume si piega quando i compagni ebbero attaccate le gomene giasone saltò giù dalla nave e andò alla prova con la lancia e lo scudo e prese l'elmo lucente pieno dai denti aguzzi e cinse alle spalle la spada era nudo e somigliava ad ares in parte in parte ad apollo che porta la spada dorata guardò il campo e vide il gioco di bronzo per i tori e l'aratro tutto ad un pezzo fatto d'acciaio durissimo si fece avanti e piantò nel terreno la lancia possente dritta sull'impugnatura depose l'elmo appoggiandolo ad essa e avanzò col solo scudo cercando le mille tracce dei tori ed ecco che quelli uscirono da qualche grotta sotterranea nascosta dove erano le loro stalle avvolti da tutte le parti dal fumo fuligginoso spirando fiamme di fuoco a vederli gli eroi tremarono ma gesone ben piantato sulle gambe li attendeva come lo scoglio sul mare attende ai marosi agitati da infinite bufere davanti a sé teneva lo scudo e i tori mugendo vi urtarono violentemente con le corna robuste ma urtando non lo spostarono nemmeno un poco come i mantici di cuoio talora soffiano nei crogiuoli forati e ne divampa la fiamma tremenda talora smettono il soffio e si leva un boato allorché il fuoco si slancia dal fondo così mugiavano i tori soffiando dalla bocca la rapida fiamma e il calore investiva l'eroe come un fulmine avvolgendolo tutto ma lo proteggeva il filtro della fanciulla afferrò per la punta del corno e il toro di destra e tirò con ogni forza avvicinandolo al gioco gli colpì con un rapido calcio lo zoccolo bronzeo e lo rovesciò per terra in avanti poi l'altro anch'esso lo stese in ginocchio con un sol colpo depose a terra lontano il vasto scudo e ben piantato sulle gambe ambedue li tenne piegati sui ginocchi anteriori e intanto le fiamme lo circondavano ed astupì della forza di giasone ed ecco i due figli di tindaro come era stato deciso con loro si fecero accanto presero il gioco e glielo porsero lo mise bene al collo dei tori e sollevato l'asse di bronzo in mezzo lo fissò subito al gioco attraverso l'anello e si fuggirono fuori del fuoco alla nave l'eroe riprese lo scudo e se lo mise alle spalle poi prese il solido elmo pieno dei denti aguzzi e la potentissima lancia e con questa li percossi ai fianchi come fa il contadino col pungolo pelasco e saldamente reggeva il manico dell'aratro ben costruito in acciaio dapprima i tori si infuriarono terribilmente soffiavano su di lui la fiamma violenta del fuoco e sorse un muggito simile all'urlo dei venti che i marinai più temono e ammainano la grande vela ma poco dopo obbedirono pure alla lancia e si mossero dietro di loro si apriva il duro terreno spezzato dalla forza dei buoi e dell'aratore e con tremendo frastuono si rompevano lungo i solchi le zolle grosse come il peso di un uomo però e seguiva poggiando il piede saldamente all'aratro e gettava lontano da sé i denti man mano che arava voltandosi indietro che non gli venisse già addosso la massa tremenda dei nati dal suolo e i tori avanzavano facendo forza sugli zoccoli bronzi e continuavano il loro lavoro quando il giorno declina e più non resta che un terzo nell'ora che i contadini sfiniti invocano il dolce momento di sciogliere i buoi allora il campo sebbene fosse di quattro iugeri tutto era stato arato dall'infaticabile giasone sciolse i tori e li spaventò mettendoli in fuga per la pianura e poi vedendo i solchi ancora vuoti di uomini tornò alla nave i compagni gli si fecero incontro e li incoraggiarono attingendo con l'elmo la limpida acqua del fiume spense la sete e piegò le ginocchia per scioglierle e fu pieno di forze simile a un cinghiale che affila le zanne contro i suoi cacciatori e nel furore riversa una schiuma copiosa ma ormai per tutto il campo fiorivano i figli del suolo e la piana di ares l'uccisore di uomini fu irta di solidi scudi di lance di elmi brillanti dal fondo i bagliori salivano attraverso l'aria all'olimpo e come quando moltissima neve è caduta sopra la terra e nella nera notte i venti spazzano via le nubi invernali e tutti insieme nel buio compaiono gli astri lucenti così splendevano quelli uscendo su dal terreno ma gesone si ricordò dei consigli della sapiente medea afferrò dalla pianura una grande pietra rotonda un disco di ares enialio neppure quattro uomini forti l'avrebbero mai sollevata dal suolo neppure di un poco però la sollevò in mano e preso lo slancio la gettò lontano in mezzo ai giganti poi senza paura si riparò dietro lo scudo i colchi diedero un grido come il grido del mare contro gli scogli acuti ma un muto stupore prese il re eta al lancio del grande disco quelli balzarono come cani veloci attorno alla pietra e urlando si uccidevano gli uni con gli altri cadevano sopra la madre terra colpiti dalle proprie lance come i pini e le querce sconvolti dalla bufera dei venti e come dal cielo precipita una stella di fuoco illumina un solco prodigio per chi la vede percorrere il cielo oscuro con un baleno così il figlio di esone balzò addosso ai giganti con la spada squainata e li colpiva alla rinfusa alcuni al ventre o sui fianchi quelli usciti nell'aria a metà altri fino alle spalle altri levati in piedi da poco e altri ancora che già correvano e si affrettavano alla battaglia e come quando scoppia una lite tra due vicini e il contadino temendo che il suo rivale arrivi prima di lui a mietergli il campo afferra la falce ricurva affilata di fresco e miete di tutta fretta il raccolto acerbo e non attende che sia maturato pienamente ai raggi del sole così il giasone falciava ai giganti e i solchi erano pieni di sangue come canali di acqua sorgiva cadevano quali in avanti mordendo l'aspro terreno quali all'indietro quali sui gomiti e i fianchi simili alla massa dei mostri marini ed alcuni di loro colpiti prima di alzare il piede sopra la terra di quanto erano usciti nell'aria altrettanto ricaddero sotto il peso delle teste ancora non solide e come in una vigna e germogli sotto la pioggia violenta di zeus appena fioriti rovinano a terra spezzati dalle radici e se ne va con loro la fatica del contadino uno scoramento e un profondo dolore prende il padrone del campo che li aveva piantati così a questo modo una pena pesante invase il cuore di età tornò indietro in città assieme ai colchi pensando come al più presto poteva colpire gli eroi tramontò il giorno e giasone aveva compiuto la prova e 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